Questa oggi è presso la filiare di Banchi d'Italia di Catanzaro, viene presentato l'aggiornamento sull'economia calabrese. In che termine possiamo parlare dal report presentato giugno scorso? Io parlerei sicuramente di un'economia in rallentamento, un indebolimento della crescita. Noi registriamo a giugno una crescita dell'1,1%, era il 3% alla fine dello scorso anno. Un indebolimento che ha caratterizzato un po' l'andamento di tutti i settori, anche se con intensità un po' diversificata. Sicuramente troviamo un maggior rallentamento nel comparto manifatturiero. Prosegue invece un'espansione, anche se a ritmi meno elevati, nel comparto delle costruzioni. Bene, anche per i servizi registriamo un rallentamento nella crescita, particolarmente significativa nel comparto del commercio. Qualche giorno fa sono stati presentati i dati della Corte dei Conti. Rispetto al passato non ci sono state quelle consuete criticità, a partire dalla stessa sanità. Per quanto vi riguarda, in che termini possiamo parlarne? Sicuramente il problema dell'efficienza dei servizi pubblici è un aspetto importante che può contribuire allo sviluppo della regione, allo sviluppo dei territori in generale. Una infrastrutturazione dei servizi consente ovviamente anche di poter operare in maniera efficace da parte delle imprese e consente ai cittadini di avere dei servizi efficienti. Anche sull'occupazione noi registriamo un indebolimento, è comunque cresciuto lo 0,9% il numero degli occupati. Io soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro vorrei sottolineare alcuni aspetti, in particolare la crescita ha riguardato soprattutto la componente maschile, quindi cresce ancora il divario tra l'occupazione femminile e l'occupazione maschile, cosa che assolutamente non aiuta, non è sopportabile per un discorso di sviluppo della regione. In questo primo semestre registriamo un aumento soprattutto della componente del lavoro autonomo e nell'ambito del lavoro dipendente soprattutto la componente a tempo determinato. Questi sono degli aspetti sicuramente importanti, in un contesto poi di riduzione della popolazione complessiva, che anche questo è un aspetto importante da sottolineare. Fiducia delle imprese e delle famiglie? Sulla fiducia incide molto un clima di incertezza che c'è, ovviamente derivante soprattutto dal contesto internazionale, dalle tensioni geopolitiche, che si riflettono comunque in generale sul livello di fiducia e sulle aspettative. Infatti questo ovviamente non aiuta chi deve investire, non aiuta chi deve programmare le proprie spese anche di consumo. Qualche giorno fa abbiamo assistito ad una manifestazione di protesta organizzata dal Wilka per quanto riguarda la desertificazione degli sportelli bancari. Da questo punto di vista quale potrebbe essere un problema di natura sociale, economica del territorio? Noi ovviamente lasciamo la libera determinazione, l'autonomia imprenditoriale ovviamente dalla parte del sistema bancario nella scelta dei propri sportelli. Quello che possiamo rilevare è che ovviamente anche in Calabria si è registrata una riduzione del numero di sportelli che si è accompagnata però a una forte crescita anche dell'utilizzo del canale telematico per l'utilizzo dei servizi bancari. Anche in Regione registriamo una quota significativa di transazioni effettuate tramite il canale internet banking e un approfondimento che abbiamo svolto anche nella nota pubblicata a giugno evidenzia come anche in Calabria il numero di comuni serviti da uno sportello bancario o postale dà conto del fatto che in tutti i comuni è presente almeno uno sportello bancario o postale che comunque è in grado anche di offrire servizi di tipo bancario. E' salita ulteriormente del 2,1% nei primi nove mesi del 2023 rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno quando aveva toccato il 7% la movimentazione dei container nel porto di Gioia Tauro. Sul futuro del porto container tuttavia pesa l'incertezza legata all'entrata in vigore del primo di gennaio del 2024 della direttiva europea ETS sul trasporto marittimo che minerebbe le prospettive dei porti tra shipments europei a partire principalmente da quello calabrese a favore di altri scali dell'area africana del bacino mediterraneo. Sicuramente il ruolo che gioca il porto di Gioia Tauro nell'ambito dello sviluppo anche del comparto di trasporti in regione è significativo. Ancora anche per quest'anno noi registriamo un aumento del traffico container in Gioia Tauro. Sicuramente ci sono degli aspetti da dover considerare per il futuro. Su questo so che anche a livello politico il dibattito è avviato per cercare comunque di individuare un giusto contemperamento tra quelle che sono delle esigenze assolutamente necessarie che riguardano la transizione ecologica e quindi la tutela del futuro del nostro pianeta con quelle che sono anche delle esigenze di sviluppo del Paese. Grazie a tutti.